La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Distretto Sud Ovest Sezione Castellabate unitamente alla famiglia Ianni organizza con il patrocino del Comune di Castellabate il terzo Memorial in Musica Maria Antonietta Salatto per ricordare la figura e l'opera dell'associata oltre all'impegno civile profuso non disgiunto dalla promozione culturale a cui affiancò l'amore per la musica e l'arte. L'evento è in programma domani, sabato 29 dicembre alle ore 17, presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate Il concerto del coro polifonico Concordia Vocum sarà diretto dal maestro Massimiliano D'Agosto Per l'occasione interverranno il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il vice sindaco Luisa Maiuri il sindaco di Casalvelino Silvia Pisapia, Domenico Giordano, vice sindaco di Casalvelino Brasilina Guariglia, presidente FIDAPA Castellabate e Giuseppe Ianni, coordinatore